ciao ragazzi come state spero bene io sono mario il coach e proverò a spiegarti ancora una volta l'allenamento del giorno è l'ultimo per noi della settimana quindi oggi ho messo un warm up un riscaldamento molto breve su quattro giri tre esercizi quindi prova a farli senza pausa questa sarebbe l'idea occhio come sempre i movimenti preparati bene aggiungi sempre quelli articolari cercati il video e noi ci vediamo alla forza ciao ed ecco di qui alla forza quindi se sei riuscito ad arrivare bene alla forza preparati fai qualche altro push up a terra libero per riscaldare bene ancora il pettorale e le braccia dopodiché preparati perché la sequenza che sto utilizzando da 15 giorni circa è cercare di trovare un peso che ti consente di fare sei ripetizioni e poi portarla a 9 per 1 finito questo prova a fare due ripetizioni al tuo 90 per cento dell'1 rm sì lo so se non sai di che cosa parli mi fai qualche domanda sotto perché in realtà è come trovare i propri massimali che si possono calcolare ma qui ci vorrebbe più tempo per parlare di questo se tu hai qualche dubbio e vuoi qualche aiuto su come migliorare la tua forza mi scrivi sotto nei commenti prova a fare questa esecuzione occhio ai movimenti mi raccomando preparati bene perché noi ci vediamo al workout ciao ed eccoci qui al workout ragazzi oggi l'idea del workout è cercare di sfidare il coach sto scherzando cercare di sfidare te stesso comunque ti dico che io l'ho fatto caricherò il video sulla sezione il coach sia al bene il video completo quindi se ti va sfida il coach in breve è un giro sei comfort time provare a eseguirlo sono 30 wall ball 50 double under quindi ho usato la corda io oppure tu puoi fare le 30 calorie e 10 bar pace dopodiché c'è il secondo giro che cambia solo il numero dei parti se ne fai 20 e dopodiché 30 nel minor tempo possibile io oggi mi sono messo alla prova e dopo lo andrei a vedere in questi giorni lo caricherò ovviamente occhi ai movimenti fai bene questi dovuti riscaldamento mi raccomando ti dico subito che sotto trovi tutti i link utili ai tutorial su come fare bene almeno i primi esercizi di base sto montando anche tutto il resto quindi rimani collegato iscriviti al canale al massimo lascia mi piace e noi ci vediamo lunedì fine settimana ci saranno tanti altri video mi raccomando allenati ciao ciao e e e e Grazie a tutti.